Il Bitonto resta aggrappato alla Serie D al play-out. Con una prova d'orgoglio, l'undici di Loseto si prende lo scalpo della team Altamura fresca di promozione in C, regalandosi un ultimo sussulto quasi insperato un paio di settimane fa, praticamente retrocessi dopo il rigore del solito allo iodice. I neroverdi si aggiudicano di rimonte il derby con Capitan Palazzo e un rotondo sempre più uomo della Providenza. Dopo la super festa promozione, è turnover totale, quello adoperato da Giacomago. Dei titolarissimi giocano solo Bolognese e lo iodice a caccia del trono di Cannonieri. Occasione per gli underpagni, tataru e offano. In avanti c'è Molinaro, decisamente a trazione anteriore del Bitonto. Chacon galleggia le spalle di Palazzo e Figliolia, Stragapede incaricato nel dare corsa in prevedibilità in mezzo al campo. Come è naturale che sia, è il Bitonto ad essere più affamato. Zugaro tira la fionda dei 30 metri, ma il portiere odierno De Luca osserva la sfera uscire sul fondo. Molto attivo Palazzo, testa la sforbiciata, tanto coraggio, ma non è granché. Al quindicesimo, sempre il capitano, si stacca bene dei blocchi, ma anche in questa circostanza la girata è lontana dei palimurgiani. Stragapede, moto perpetua a sinistra, serve Chacon, che ne salta a due nello stretto, ma non riesce a dare forza alla sfera, che si spegne tra i guantoni di De Luca. La prima iniziativa dell'altamura parte dai piedi di lo iodice, traversone per la testa di Colella, che tocca alto da posizione favorevole. Lo iodice è in vena di prodezze, cerca il gioli dei 35 metri, ma Civita era sulla traiettoria della punizione liftata. Si fa rivedere il Bitonto, Gianfreda calce in maniera goffa, creando tuttavia qualche spavento a De Luca. Grossa occasione Bitonto in avvio di ripresa, Figliolia protegge e propizia la corsa di Stasi, sul rasotera si avventa Chacon, vole bella, fuori di pochissimo a De Luca battuto. A passare per primo in vantaggio è la team altamura, Stasi, il ruento, frana sullo iodice defilato, rigore convertito con lo scavetto nello 0-1 dallo stesso attaccante, che sale a 15 centri in campionato. Sembra avvicinarsi il tempo dei saluti per il Bitonto. Dentro Rotondo accaccia di un nuovo miracolo, proprio il 2005 stradica il pallone dal limite, palla Figliolia, poi Palazzo e 1-1. Il capitano suona la carica, i nero verdi sono ancora vivi. Dipinto vince il velocità e il duello fra numeri 4 con Mazzarano, men giravolta non trova il contatto giusto con il pallone. Dall'altro lato Rotondo è scatenato, rimpallo e tiro, De Luca blocca con sicurezza. Settantatresimo, l'altro in un entrato Fioretti-Crossa, Palazzo in qualche modo fa recapitare il pallone a Figliolia, un'occhiata rotondo che fa il resto, palla nell'angolo più lontano e sorpasso Bitonto. Solo gol pesantissime referto per il 19enne. Dopo quello la Palmese, eccone un altro che può cambiare la storia di questo campionato. La team Altamura prova a evitare la seconda sconfitta negli ultimi sei mesi. Mobilio Calcia, Civita difende bene il palo e respigge. In vista dell'ultima giornata, sono tanti l'Incastri che piazzano il Bitonto nel limbo tra play-out e retrocessione diretta. Domenica prossima, la banda Loseto fa le valigie in direzione Casarano, non avendo il destino tra le proprie mani, ma credendo fortemente al miracolo sportivo. Semplice sconfitta da pancia piena per la team Altamura, Giacomago d'ampio spazio a tutta la nostra disposizione in vista della festa promozione del 5 maggio al D'Angelo con il Matera.